Proveditore, allora lunedì saranno 25.000, mi pare, circa in provincia di Imperia i ragazzi per cui squiderà la prima campanella di inizio dell'anno scolastico. Ma cominciamo dalle classi, dalle scuole. Qual è la situazione? Le strutture sono a posto? Innanzitutto sono 24.875 per l'esattezza, suddivisi naturalmente per ordini di scuole, dalla scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. E' a cui va il mio augurio innanzitutto per un sereno anno scolastico. Direi che gli edifici sono stati sistemati per questo avvio di anno scolastico, per cui mi ritengo soddisfatta. Diciamo che la situazione più pesante era quella su Imperia, che riguardava la sistemazione dei ragazzi dell'Iceo di Amicis, ma con un lavoro che è stato fatto in piena estate, con quel caldo micidiale, con il presidente della provincia e il comune, siamo riusciti veramente a trovare gli spazi necessari per sistemare questi ragazzi. Quindi la mia preoccupazione era enorme, però devo dire che alla vigilia... Anche di lavorare assieme ai ragazzi dell'Iceo Scientifico. E l'ITT ha anche riuscita a trovare le classi all'interno di Piazza Calvi, per cui direi che tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatte anche le famiglie che erano fortemente preoccupate. Ecco, e passiamo allora a un'altra componente non importante, fondamentale, quella degli insegnanti. Come siamo messi? Allora, con gli insegnanti, noi infatti ne approfitto per ringraziare il mio ufficio, perché veramente siamo state una... la nostra è stata una delle province che prima e fra tutte ha nominato entro il 31 agosto, abbiamo fatto nomine in ruolo, abbiamo assegnato le supplenze annuali, quindi tutti quei lavori che in altre province, in altre regioni, sono state fatte proprio recentemente. Quindi noi abbiamo voluto che il primo settembre gli insegnanti fossero già a disposizione delle scuole. Aspettiamo ancora l'ultima tranche della buona scuola. Lunedì mattina, lunedì 14, arriveranno i docenti, gli ultimi docenti, che dovranno essere assegnati su base ministeriale. Sono una quarantina, giusto? Sì, sono una quarantina. Vediamo in provincia di Imperia quanti effettivamente prenderanno servizio. E quindi rimane ancora questo piccolo dubbio che si svelerà lunedì. Sì, è il primo giorno, quindi ci può stare ancora. D'altra parte anche il Ministero, devo dire che negli ultimi tempi, nel giro di un mese, ha dovuto fare questo bando rivolto a moltissimi docenti in tutta Italia. Quindi il lavoro è stato notevole a tutti gli effetti. Ancora una cosa, i presidi, i dirigenti scolastici, oggi li chiamiamo comunque il preside, una volta ce n'era uno per scuola, adesso invece ce n'è uno per tante scuole, più scuole perlomeno. Sì, purtroppo l'ultimo concorso direttivo che è stato fatto non ha permesso di coprire tutti i posti vacanti. Diciamo che la nostra provincia in questo senso ha moltissimi posti disponibili. E allora quest'anno tutti i dirigenti non solo hanno la loro scuola di appartenenza, ma gli è toccato anche un'altra rigenza. Addirittura ci sono due dirigenti che hanno due scuole in rigenza in tutta la provincia. Quindi possiamo immaginare la mole di lavoro. E a loro va innanzitutto il mio grazie perché assumere la responsabilità di più scuole non è una cosa facile. E soprattutto a quei dirigenti che, come dico, hanno avuto due scuole in rigenza. Quindi io ne approfitto per augurare loro e a tutti i docenti, perché non dimentichiamo che la scuola è fatta da tante componenti. I ragazzi che devono studiare naturalmente, i docenti e anche le famiglie, perché il percorso scolastico dei ragazzi coinvolge anche la famiglia. Ognuno deve avere un loro ruolo, ma soltanto quando c'è una profonda collaborazione fra tutte queste componenti i ragazzi possono veramente crescere.